e ben a tutti ragazzi in questo nuovo video oggi ho trovato sandy ho aperto una cassa ho trovato sandy ho aperto una cassa ho trovato sandy vi faccio vedere che non c'è nessuna offerta magari voi pensate frank l'hai scioppata no guarda vi sto facendo vedere il negozio non c'è nessuna offerta lo trovate in una cassa vedete non c'è nessuna offerta c'è solamente l'offerta del brawler super raro ma sandy è come potete vedere il negozio quindi ho pure gli screenshot non l'ho scioppato dunque raga se riesco ho l'inizio del video vi metto lo screen che ho trovato sandy speriamo che ve lo riesco a mettere adesso mo mo che mi scrivito lo edito quindi allora io dico che adesso ok la state vedendo l'immagine che ho trovato sandy però non so se nell'eddy riesco a metterla proprio in questo attimo poi vedrò poi vedrò oggi è san francesco di paola ho trovato ho avuto fortuna ho trovato sandy e il mio onomastico il mio onomastico ho avuto fortuna abbastanza mi manca un leggendario spike per provarlo ok come sempre iscrivetevi a lasciare tanti tantissimi like oggi pure le coppe come regalo terza posizione speriamo di arrivare in seconda e l'ho morto a sull'altro gli altri più nuove coppe siamo pro oggi proissimi e ci posiziamo sandy a grado 3 subito da bomba allora faccio vedere il brawler che me ne mangano 4 mi manca un super raro jackie mi manca mister key maxine e spike e fino adesso ok vediamo che con i brother siamo a posto tre leggendati di super rari me ne manca uno jackie è appena uscito speriamo di trovarlo pure lui oh ok vediamo se riusciamo ad uccidere corvo no adesso mi è preso da solo un po' si uccidiamo jackie voilà c'è un'altra sandy oh si si dai mi è scattacciare bene sto schermo stiamo cambiando dopo i senti che conti tempo che si sgombra la zona uno due tre quattro cinque andiamo faccio uno screen si quello fa le squadre ma questo che è una trappola per inchillarmi lo sapevo quando c'è troppa gente stelle come stiamo dicendo stare camperati ok adesso possiamo andare allora voi dite voi dite eh franco ma se si è sempre camberato o sempre camberato che ingegno un trucchetto come fare le coppe facilmente allora le squadre rimaste cinque dovete andare a chillare a forza quando con le squadre rimaste quattro e siete tipo al centro che ci sono tante persone voi camperate proprio con date proprio dieci secondi camperate e con date uno due tre quattro cinque arrivate fino a dieci e uscite come vedete che ci sono due tre persone che voi dite eh ma io non ce la faccio a sconvingerle sono forti camperate più dieci venti secondi mentre si vanno squadre rimaste tre e ci saranno venendo altre persone se quelle persone voi dite vabbè riesco a chillare proprio che voi ci riuscite a chillarle andate a chillare quindi ma ora c'è questa qui che si chiama Bea io non riesco a chillarla perché ho cinque mila di vita ce ne ho poca entro nel campo e già lì c'è un'altra persona che non va bene non va bene non va bene c'è Jesse e stiamo cambiando proprio venti secondi uno due tre questa qua la posso chillare non la posso chillare e in questo caso devo stare camperati il lontano possibile dal luogo del sole da persone uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici due tre quattro dieci quindici sedici c'è sette c'è c'è nove venti andiamo jacking jessica eh siccome di filo con gli due uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci usciamo oh max non riesco a chillarla vediamo no forse la chillo eh non l'ho prima mi riesco a chillarla vedete raga io ho fatto una 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 papostata perché non si riuscite a chillarla mi hanno chillata a me se voi dovete chillare una persona squadra rimaste quattro cinque se io ho tre tre mila di vita l'avversario deve avere due milita deve avere sempre meno vita di voi oppure se voi avete 5 power up e voi avete 6 mila di vita l'avversario deve avere come noi 4 mila o 5 mila di vita sempre meno di voi sempre molto meno di voi come sempre era questo video finisce su cosa se è piaciuto lasciate like e c'è la prova